Musica Sommé Angern che duce insieme si attacca anche il percorso che noi ediamo scolastico, ma che è in esperienza, amicizie e recorce. Dopo la fadia della matura, adesso è il momento di venire sui frutti del lungo l'uriero che ha avuto usato verso il mondo di greggio. Già del 9 di dezzembre è stato consegnato alla olamagna della scuola laddina di fascia i diplomi di matura agli ex studenti del liceo scientifico e scuola d'arte. La cerimonia è avuta con la chanties del coro e la musica del bandino della scuola laddina. Una scuola che noi diamo libri spesso, ma in Cellec, ora che seppesse confrontare, in Cedegrà a progetti e scominza di vedere che queste, sempre con sostegno i professori. Già dei buoni studenti perché è grande fiducia, è grande risposta di confronto di studenti. e questo è il momento di vedere la vala da un punto di vista positivo, perché è bisogno di vivere in quel senso di steradum, perché l'individualità ha portato alle aspettazioni. Quindi, mi sembra di lavorare con loro e mi sembra che loro possono essere lunga dalla costruzione della nostra società e della nostra vala. E' un bel risultato per la scuola laddina di Fasa. A già che che stanno, tanto al liceo che alla scuola d'arte, due studenti che stanno passando. E dei tre ha meritato fino a mai la stima più alta, che è la del cento. Iselava Dagnada, Stefano Riz, Martina Soracreppa e Eleonora de Thomas. E' un sacrificio che si tramudano l'orgoglio e l'egrezza, che fanno smentire due mesi di studi. Ovviamente sono molto fiera di questo risultato, anche se fino alla fine non ci avevo creduto. Gli sforzi che ho fatto durante l'anno sicuramente sono serviti e hanno aiutato, anche se comunque c'è da dire che c'è stata anche una botta di fortuna. E' un grande risultato per la scuola laddina di Fasa. E questo è il bello. Come esempio per i sogni, o la che magari vivono in un momento, la che io ci volevo andare subito senza farfadia. Invece io credo che Mingole di Fadia già lo vuole fare, perché senza farfadia non serve da nessuna mano. E' un documento che noi dobbiamo un tocco di papiere, ma che dà il metto di poter girare anche un suo studi. Invece senza chi, innavo a sa, pericce se averci usato il salmone dell'urier. Beh, questo ci rimane all'estate da essere molto emozionante. Non dobbiamo aprire il diploma in sé, ma proprio per tutto quello che l'estate vende da. L'estate c'è anche molto emozionante, sinistra, sono molto, però alla fine sono molto più stolta di quello che l'è il tuo diploma. Adesso c'è lavoro e c'è un anno sabatico, come si suol dire, però mi piace sempre iscrivere a marketing e organizzazione di eventi a Brunico. Grazie.